Era seduto sui binari, chinato come se stesse raccogliendo dei sassi. Il bambino di tre anni che sabato pomeriggio è morto dopo essere stato investito da un treno regionale a Pescara nel quartiere San Donato a poche centinaia di metri dalla stazione San Marco. Con lui ai lati dei binari a guardarlo c'era il fratellino di due anni rimasto ferito lievemente. Questa è la ricostruzione fornita dal macchinista del treno della linea Roma sul Mona Pescara alla polizia ferroviaria che indaga sul tragico incidente. L'uomo ha riferito che uscito da una semicurva ha visto i due bambini sui binari e ha subito attivato la frenata rapida ma per fermare un treno di sei carrozze e di oltre 500 tonnellate di forza sulla motrice sono necessari diverse centinaia di metri. I due bambini, figli di una famiglia Rom di origini italiane da sempre residente nel quartiere San Donato, avrebbero raggiunto i binari direttamente dal cortile di casa attraverso un foro presente nella recinzione e poi avrebbero percorso circa 200 metri fino al punto dell'impatto. I genitori dei piccoli erano nell'abitazione convinti che i figli stessero giocando in giardino. Si sono accorti di quanto accaduto richiamati dalle urla delle persone accorse sui binari. Dopo aver ricostruito la dinamica la polizia ferroviaria si sta occupando di una serie di accertamenti finalizzati a ricostruire lo stato dei luoghi e ad accertare eventuali abusi o domissioni anche per capire se l'incidente poteva essere prevenuto ed evitato. La procura di Pescara ha aperto un fascicolo. Questa mattina il PM è tornato sul luogo della tragedia per fare un sopralluogo insieme alla polizia scientifica e a quella ferroviaria. Il magistrato ha voluto ripercorrere personalmente la strada seguita dal bimbo. L'ipotesi di reato contro ignoti è omicidio colposo.